Claudio! Vai, Claudio! Forza, scusa bene! Vai, Armando! Forza! Vai! Vai, Armando! Vai! Un ginocchio! La seconda! Seconda! Vai, Armando! vai al manco, la terza, ora, così, e il ginocchio, così, ancora il ginocchio, andando, ancora, ancora, ancora,, ancora, 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 1,2,3,4,4,7, se, ancora, la telecamera forza vai vai Armando vai ancora 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 Armando ginocchio ginocchio da vicino da vicino ginocchio ora ora così ancora ancora vai Armando ancora Armando così e calcio vai vai giù ancora ginocchio ma sul round quando è sul round ancora andate per i cassichetti minchia vai Armando tu Armando ginocchio bravo ginocchio Armando ginocchio Armando Armando vai vai tu Armando tutto tutto Armando tutto chiuso bene vai ecco e ginocchio ora ora chiuditi 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 e ginocchio sempre ginocchio così lasciati lascia il nuovo ginocchio lascia il nuovo ginocchio esci esci gira così alla gamba ecco fare rispondi ancora uno così ecco ecco così vai Armando una seconda una seconda ora uno uno così cambia cambia chiudi chiudi ferma chiudi 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 la mia guaglia vai vai di nuovo Armando vai aiuto sempre ancora ancora così così ginocchio ginocchio Armando di nuovo così uno uno e calcio andiamo uno due tre quattro ferma sei sette otto è all'angolo posto bravo vai vai giù 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 ecco bravo così spirito forte eh sì ecco ginocchio ecco questo vai vai Armando vai 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 Armando vai Armando ferma i punti vai 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 Armando vai vai andai vai 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 basta questa testa vai vai bravi ragazzi vai 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 Fai lì tu la foto, io devo prendere fino alla fine, devo mandarlo alzare il mio braccio. Mi abbraccio, forse lo alzano verso la veglia.